1981, arrestato Giusva Fioravanti 2006, ucciso in Turchia Don Andrea Santoro 1885, i soldati italiani prendono Massawa commenta il fatto del giorno Alberto Faustini direttore dell'Adige e Alto Adige lo ricordiamo soprattutto per uno spot nel carosello ma in realtà è stato un grande attore del Novecento Italiano è il maestro Calindri di cui parlo oggi